Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis, lo scatto tra le lenzuola è sexy È uno scatto sexy quello di Elisabetta Canalis, che si avvolge tra le lenzuola del suo letto con un'aria dolcissima e tenera nello sguardo. Un connubio di emozioni per questa foto che, ovviamente, conquista i fan grazie alla spiccata sensualità dell'ex velina. Elisabetta Canalis si avvolge nelle lenzuola. Sul profilo Instagram di Elisabetta Canalis appare un selfie piuttosto sexy, la bellissima 39enne si avvolge voluttuosamente tra le lenzuola del suo letto e posa così, con uno sguardo allo stesso tempo dolce e seducente, che guarda dritto in camera. Il viso è coperto per metà dalla delicata stoffa della biancheria del letto, mentre un elegante braccio, nudo, spunta dalle coperte per scattare la foto con lo smartphone, i fan ne sono totalmente conquistati da questa posa sensualissima e il vedo non vedo fa volare la fantasia del popolo d'Instagram. La frase che accompagna il post è molto poetica, da qualche parte nel mondo, mentre sullo sfondo vediamo una finestra aperta su uno scenario che non riconosciamo, anche perché velato dalle luci azzurrine o dell'alba o del crepuscolo. In realtà, dove sia Elisabetta Canalis dovremmo intuirlo dai social network, nelle sue Instagram stories ha condiviso un nuovo momento del suo allenamento quotidiano in palestra, questa volta sullo stepper, e l'atmosfera intorno rimanda a quella della sua game location preferita, a Los Angeles. Questo letto a baldacchino su cui è sdraiata Elisabetta appartiene alla sua casa californiana oppure la splendida showgirl è in viaggio per una meta che non ci ha voluto rivelare? In effetti, qualche post più tardi, Elie condivide con i fan un momento all'aria aperta, dietro di lei, un panorama piuttosto armonioso, che a prima vista potrebbe sembrare quello di un lago attorniato da alberi verdeggianti. Guardando meglio il viso della mamma di Schiller Eva, però, carpiamo altri dettagli dai suoi occhiali a specchio, la Canalis è andata a fare un giro in barca a largo? Non sappiamo quale sia esattamente la sua destinazione, ma una cosa è certa, il suo beauty look è perfetto, con un make-up leggerissimo e splendide soft balance. Elisabetta Canalis adora condividere i suoi momenti con i fan. Questa è una grande verità, sopra ogni altra cosa, poi, Elisabetta Canalis adora postare i suoi allenamenti quotidiani in palestra. Una vera ispirazione per tutte le sue fan. Certo, la sua scheda tecnica è veramente intensa e ricca di esercizi difficilissimi per chi approccia una game session per la prima volta, ma non si può fare a meno di ammirare la sua agilità tra un salto, uno scat e un momento di meditazione a testa in giù. Oltre a dare motivazione ai follower per un regolare e salutare Workout quotidiano, la splendida showgirl pubblica i suoi segreti di bellezza e i suoi outfit preferiti, che hanno sempre un successo eccezionale tra le fan. Infine, sono dolcissimi i momenti insieme a Schiller e Eva, che incantano e sottolineano la sua tenerezza come meravigliosa mamma sempre al top della forma e piena di energie, una nota da non sottovalutare visto che la sua bellissima ricciolina bionda richiede sempre più attenzioni, tra giochi e corsette sulle spiagge californiane. Grazie per la visione!